E dopo la scuola elementare è stata la volta della mezza scolastica. La scorsa notte i ladri hanno vuotato le dispense della mensa che prepara i pasti per le scuole cittadine e che ha i locali cucina nella struttura del centro sociale di via Melito a Solufra. Hanno portato via praticamente tutto, surgelati, derrati alimentari, piccoli elettrodomestici da cucina facilmente asportabili, hanno avuto il tempo di forzare gli armadietti del personale, non hanno tralasciato nulla, si sono quindi allontanati indisturbati. La scoperta di quanto accaduto solo nella mattinata di oggi, quando il responsabile della struttura è andato ad aprire i locali per avviare la preparazione dei pasti, ma ha trovato l'amara sorpresa. Il furto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri della stazione cittadina che hanno effettuato i rilievi utili per tentare di risalire ai responsabili dell'alcaduto. Intanto la ditta che gestisce il servizio ha fatto arrivare in città delle forniture straordinarie per assicurare la riflessione scolastica. I bambini, dal canto loro, almeno per oggi, si sono dovuti accontentare di un menù, per così dire, di emergenza.